Grazie Alcrivangiaro, prego, accomodati, bravo Umberto hai scelto la foto, hai visto? Ciao ragazzi Allora, Alessandro Marcianò Lui è un surfista Ed è un master di big waves Giusto, si dice così? Giustissimo, big waves Big waves, vi dico solo che ha raidato No, questo non me lo fate passare mai in italiano Però è... Ha surfato, lo so però Ha surfato un'onda di 18 metri E' stato il tuo... E' stato il... E' stato il primo record in realtà Poi ho surfato onde anche più altre Anche più alte ma non sono state registrate ufficialmente E perché? Perché in quel posto è molto facile trovarsi di fronte a delle vere e proprie montagne Anche fino a 30 metri E quindi se sei nel punto giusto e te la senti Bisogna andare giù E tu te la senti sempre? Non sempre però sono uno di quelli che quasi mai dico di no E però poi ogni tanto si paga il prezzo Nel senso che ci sono anche degli infortuni Però insomma... Certo Allora peraltro qua stiamo vedendo delle immagini Tu e quell'onda era Nazarea immagino? Sì sì, è Nazarea dove vivo l'inverno Proprio per aspettare queste mareggiate Ecco, vedi? Che arrivano e poi ogni tanto si cade Quindi purtroppo... Questo sei tu? Si fa male, sì Qua sei caduto? Eh no, sì No, ho capito Ecco il risultato Ecco il risultato E poi si va sulla spiaggia Si finisce sulla spiaggia Fortunatamente Diciamo... Poi ci sono tante persone che ti vengono in aiuto Però le condizioni sono estreme Sono onde molto molto anche pesanti Sì, allora che le condizioni fossero estreme Ti giuro Alessandro Secondo me anche da casa se ne sono resi conto Allora, ondone pazzesche Eccoti qua, tu sei sempre tu E a me verrebbe da dire che tu lo fa fare Però so che, no? Nel senso è proprio una passione Sì Allora, no ragazzi Perché voi andate in profondità Lui sta sulla superficie dell'acqua Qualche volta ci vanno anche loro sotto Ecco, qualche volta ci vanno anche loro Allora qua voglio creare il link, no? Perché tu vieni tumbled Cioè tu vieni preso dall'acqua E rivoltato come un calzino Ecco In inglese era un po' più figo Tumbled Ragazzi, voi in quanto campioni del mondo di apnea Avete qualche suggerimento Da dare ad Alessandro Per affrontare la caduta? Ma siamo contattati spesso Da realtà legate al mondo del surf Perché, come dire Sempre più d'attualità L'allenamento specifico in apnea Però con le loro situazioni Per cui loro devono allenarsi in situazioni estreme Spesso si ritrovano sott'acqua Dopo aver scaricato aria Quindi a polmoni vuoti Devono stare calmi Perché non sanno quando usciranno dall'onda E quindi sono situazioni molto particolari Però l'allenamento per i surfisti è molto bello Spesso li fai Crei delle gare sott'acqua Li fai recuperare rapidamente Quindi è molto divertente Allenarsi in apnea Quindi c'è una preparazione specifica Per l'apnea dei surfisti? Sì, io ho messo a punto Queste tabelle di allenamento Proprio rivolte ai surfisti Giusto l'altro giorno Ne parlavo con un mio istruttore Che aveva un gruppo di surfisti In Sardegna E quindi hanno delle Situazioni da affrontare Molto specifiche Quindi devi creare In un ambiente protetto In piscina Quelle situazioni Ecco, scusa Però vorrei capire una cosa Tutti noi abbiamo Insomma i social E ogni volta ci appare Su Instagram L'onda più grande del mondo Nazare L'onda Perché proprio a Nazare? Cioè immagino che ci sia Una situazione di fondale Per cui poi si crea L'onda così alta fuori? Sì, sì Lì lo chiamano il Grand Canyon Questa depressione marina Molto profonda 5.000 metri Si arriva praticamente In mezzo all'Atlantico Però poi sotto riva Vicino proprio a questo fortino Dove c'è questo fare rosso iconico Il fondale si alza All'improvviso Da 5.000 metri Arriva a 60-70 metri E quindi Tutta l'acqua Che si è incanalata In questo Grand Canyon Poi si alza E crea queste onde Che sono Hanno una forma particolare Infatti hanno una forma montagna Non sono delle onde Diciamo regolari Quando c'è la Big Mama Come questa qui ad esempio È un'onda fatta A triangolo Cioè è una vera Montagna Che va surfata In un certo modo Cioè va sceso giù Diciamo A piombo E poi uscire fuori In un certo modo Perché se no Potrebbe essere Chiaramente pericoloso Starvi sotto Non so Se no potrebbe essere Leggermente pericoloso Potrebbe Io devo essere ottimista Perché se no Non lo farei più Alessia non ha paura Della profondità E non ha paura Dell'altezza Della vertigine Voglio sapere Avresti paura A surfare Big Mama? Beh sicuramente Non sarebbe la prima volta Che andrei mai a surfare Magari con tanto Tanto Tantissimo allenamento Però non dice di no Non si tira indietro Non si tira indietro Non riesco a trovare Una cosa Di che cosa hai paura Alessia Facciamo terapia di gruppo Non lo so Di sbagliare magari In un tuffino apnea Che comprometterebbe tutto Quello ti fa più paura Giustamente Allora Alessandro Marcianò Veramente complimenti Bravo Grazie Allora con te Abbiamo parlato di onde Che si surfano Tra pochissimo Parleremo con due scienziati In due Oceano 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 Grazie Alessandro Mi è venuta così Bravo Mi hai salvato Parleremo proprio Con questi due scienziati Dribbling Di onde Di come si formano Dei loro nomi Insomma faremo anche un giro Per cui mi raccomando Ti voglio attento Fino a fine puntata Perché non si sa mai Che poi ti rinterrogo Alla fine Va bene Quindi stai all'occhio Va bene Hai mai surfato nel Borneo? No Ci sono onde pazzesche? Non credo però Non credo Però tu guarda un attimo Partiamo per il Borneo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti